Dice, come te chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruaglio. Con faluniere di Campomarcia, di professione carettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché te sei impicciato da cose che non te riguardano? Dico perché io so carettiere, ma a tempo perso so' uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti vi è Garibaldi e dice, favolo Italia. Io che fo? Non me impiccio. Io so' romano, eccellenza, ma a tempo perso so' italiano. E' colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui, è colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma no, signora, eccellenza. Io ho difeso Roma, il paese mio, e lei ce lo sa mai da me. Ma come i francesi mi viene accannonata e io non me impiccio? Non me riguarda? Insomma, eccellenza, se andiamo a stringere, che mi ho fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io? Io che ho fatto? Ho voluto bene Roma, e beh? E da quando in qua l'amore dei padri è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto vuole bene al paese proprio, allora io so' corpevole. Anzi, so' reo, confesso. E mi offenderebbe pure se mi ripandaste a sordo. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia appersuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuati. Achto! No, ma che padre, no, grazie a tutti!